vediamo giovanni e le prese nella seconda parte della ferrata di bodolo e le prese nella ferrata di bodolo non è quella la tecnica Giovanni devi spaccare con i piedi destro sugli appoggi che ci sono a destra con i piedi sinistro sono aperti di sinistra guarda a destra, a destra del cavo guarda a destra guarda a destra guarda a destra